Stai ascoltando la puntata numero 8 del programma Autostima Donne, un podcast dedicato alla crescita personale delle donne. Autostima, comunicazione, motivazione, definizione obiettivi sono alcuni degli argomenti trattati in questo programma. Nella puntata di oggi, come aumentare l'autostima nei bambini e di conseguenza anche nei ragazzi. Parto dal presupposto che tu sappia che l'autostima di tuo figlio si forma sin dai primi anni di vita e che continua a plasmarsi anche durante la fase adolescenziale. Questo è un periodo di vita molto importante per lui, dove il comportamento di entrambi i genitori, ma anche quello di tutti gli attori che sono a contatto con il bambino prima e in seguito con i ragazzi adolescenti, dunque i fratelli, i sorelle, i nonni, i parenti, la scuola, gli insegnanti, i professori, le amicizie, beh perché no, anche gli allenatori sportivi influenzano fortemente la sua autostima, aiutandolo a costruirla forte e sana o all'opposto a distruggerla. Spesso noi genitori non ci rendiamo conto di come il nostro comportamento possa contribuire a formare un bambino che, da adulto, porterà dentro di sé una sana autostima, o peggio, si complicherà la vita, lo farà da solo e scapperà da ogni opportunità, perché privo di fiducia in sé stesso. Il compito di ogni buon genitore, e oserei fermare anche della scuola, è di non limitarsi a dare al bambino prima e al ragazzo dopo le primarie necessità che qualunque genitore coscienzioso garantisce al suo figlio. Compito di un buon genitore con la G maiuscola è quello di aiutarlo a crescere forte e sano, pienamente fiducioso in sé stesso e nel mondo. Ecco perché è importante dedicare tempo al bambino, al ragazzo, all'adolescente, giocando con lui, comunicando, interagendo continuamente, ascoltandolo con attenzione, non solo le sue parole, ma anche i suoi segnali di disagio. Molti genitori commettono l'errore di pensare che il loro compito si esaurisca nel fornire le necessità più importanti e, difficilmente, trovano tempo per stare con il bambino, giocarci, parlarci, viverci. Essendo anch'io un papà, so che questo errore lo commettiamo maggiormente proprio noi maschietti e, siccome l'ho commesso io per primo, rendendomene conto solamente dopo, mi rivolgo in particolar modo a tutti i papà che mi stanno ascoltando, invitandoli ad ascoltare, riascoltare e poi riascoltare tante volte proprio questo podcast audio. Comprendo bene che siamo nell'era dove il tempo è sempre tiranno e i genitori spesso, lavorando entrambi, non hanno tempo per stare con i bambini. L'era dove i bambini, appunto, sono sempre più parcheggiati dai nonni o negli asili. Ripeto, comprendo bene i ritmi e le necessità, ma se hai a cuore l'autostima di tuo figlio, dovresti fermarti ogni tanto, giocare con lui, leggere con lui, parlare con lui, persino guardare la tv con lui. Una domanda che in passato ha aiutato me e tanti altri genitori con i quali hai avuto il piacere di collaborare, di lavorare e che aiuterà anche te a capire, a comprendere se veramente stai facendo il possibile per crescere bene tuo figlio è sto ascoltando mio figlio o sto solamente ascoltando me stessa o me stesso. Rispondere a questa domanda ci vuole coraggio, ma sono convinto che se lo farai anche tu comprenderai come poter aiutare tuo figlio a migliorare la propria autostima. In chiusura di questo podcast ti ricordo che la tua funzione di genitore è molto importante per la crescita dell'autostima di tuo figlio. Non sottovalutare mai questo aspetto. Se è vero che buoni genitori non si nasce, ma si diventa anche attraverso gli errori, che sono parte integrante del nostro percorso di crescita, è altrettanto vero che i bambini assorbono come delle spugne e apprendono attraverso processi di imitazione. Dunque, la prima persona ad avere una buona autostima devi essere tu. Per la mia esperienza infatti diventa difficile aumentare l'autostima nei bambini e di conseguenza nei ragazzi se quella dei loro genitori è sotto i tacchi. Ricorda, sii un esempio per tuo figlio, sii un punto di riferimento. Nell'antica Grecia avremmo detto che devi essere un mentor, un punto di riferimento positivo e guidare il tuo bambino. Aiutalo. Da grande ti ringrazierà. Io sono Giancarlo Forney, un coach e un formatore motivazionale in rete e sono conosciuto come il coach delle donne per la mia esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile. Vienemi a trovare il mio blog principale coachingperdonne.com o su Facebook Giancarlo Forney naturalmente. E se hai una domanda da pormi anche tu scrivimi a info-giancarloforney.com ti risponderò sempre e personalmente. E se ti va di leggere qualcosa a tema ti consiglio un mio fake book del 2011 ma ancora molto attuale Pensiero Positivo per Bambini. Lo trovi su Amazon, nel Giardino Delivery o su tutti gli atti store online. Un grandissimo abbraccio e al prossimo Podcast Audio.